Sud perché no? è il titolo del libro di Riccardo Maria Monti, ex presidente dell'Istituto per il commercio estero, presentato ieri presso l'azienda agricola Altamura di Ponte Cagnano Faiano. Un'occasione per discutere di tematiche quanto mai attuali e di esperienze imprenditoriali, prendendo spunto da un'opera che stimola un appassionante dibattito sul presente e sul futuro del Mezzogiorno d'Italia. Il suo libro fa una disamina storica dicendo che dal dopoguerra alla fine degli anni Ottanta la distanza fra nord e sud è diminuita. Poi che cosa è successo? Poi è successo che una concausa, la crisi della finanza pubblica che ha ridotto i trasferimenti, la riduzione degli investimenti dello Stato, una totale afonia politica del sud che non ha un ministro di spesa da 25 anni, il fatto che ovviamente gli investimenti è più facile e più comodo farli al nord e quindi per 25 anni di fatto non si è investito al sud e lo Stato in conto capitale ha investito al sud una frazione di quello che avrebbe dovuto semplicemente considerando in proporzione alla popolazione, non considerando di recuperare il gap che già il sud ha. Quindi c'è stata una profonda ingiustizia totalmente ignorata anche da noi meridionali che abbiamo accettato questo con totale rassegnazione, tant'è vero che per essere propositivi nella mia ricetta di otto punti il primo punto è la riserva di investimenti, cioè lo Stato deve investire in conto capitale al sud in proporzione alla popolazione. Questa cosa non è stata fatta per 25 anni, per 30 anni e abbiamo ora un ritardo gigantesco, dobbiamo cercare di colmare almeno in parte. La differenza fra narrazione del sud, anche vittimistica e realtà? Oggi siamo qui in un territorio straordinario, in un'azienda che esporta in tutto il mondo, che cresce, che investe, che bonifica un territorio assumendo 500 persone, cui molti giovani. Questo è il sud che vince, il sud dobbiamo raccontare e tra l'altro questa nazione è stata troppo spesso ignorata. Il mio libro parla a lungo di una carrellata di straordinaria eccellenza di tutto il sud, quindi abbiamo delle storie incredibili della Calabria, della Puglia, della Lucania, della Campania, della Sicilia e queste storie sono poco note, troppo poco note e dobbiamo farle conoscere, però dobbiamo anche recuperare un senso di appartenenza e come comunità di avere gli interessi in comune e delle emergenze da gestire. Quindi in questo momento il sud deve ritrovare, anche con la scusa del dibattito sul federalismo differenziato, la coscienza dei propri interessi e la voglia di mobilitarsi per ripartire. Abbiamo un bivio, o ci rassegniamo e lasciamo nel sud, o reagiamo. E reagiamo però per fare cose concrete e io ho provato a declinare una proposta di cose concrete da fare.